You got her involved just for that? Vito, you were an insensi. No, noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? Welcome. Come. Sべてを俺にぶつけてみろ. Sini isoびたければかかってきてもいいんだぜ. tradedo. Sotto. Sotto. Grazie per aver guardato il video. no 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!